Ciao a tutti ragazzi qui c'è Cornel South, ci sono qui con il buon Alphablades che corre come. Ah io sono Alphablades e ho un STT al limone. Che corre come un ghepardo con un STT al limone. Siamo qua, su Mindplex, server, per fare un Hunger Games, andiamo. Ah, è iniziato. Ah, dove sei? Ah, ok, ti ho visto. Ti ho visto, ti ho visto anche io. Andiamo dal blu dopo. Sei dal giallo, andiamo dal blu va bene. Sì, andiamo dal blu perché il blu è game. Ah, ho delle scarpette d'oro, minchia quanto sono bello, andiamo. Io avevo dei meravigliosi pantaloni d'oro che mi hanno rubato perché sono albanese. No, perché? Ah qua c'è una casa, uuuuh. Albania, sei solo, è soltanto tutta mia. Ho una bistecca. Ah c'è uno qui, picchiamolo a pugni. Picchiamolo. Ha bistecca. Ah, gli hai picchiato a me, ricchione. Ma che cazzo vuoi, scusa? Non è che posso, cioè non si può aver tutto stesso, sono bello. Sono intelligente, non posso sapere anche picchiare le persone. Dove andiamo? Quella cazzo l'ho già presa quel tizio. Qua all'altro. Allontanarci un po' da questa marmaglia che sono più le bei. Sì, infatti, bastardi. Puzza, schifo, culo. C'è patente. Allora, dico... Ho della roba per te, uomo, uomo nudo, dove sei? Fermo. Hai scarpette interessanti. Guarda che bello. Guarda che bello. Guarda. Sono al pavimento, tipo... Ho bello lì. Ho bello lì. E tu che cosa hai di offensivo? Una spada d'oro e le parolacce. Beh, sono offensivo e le parolacce. Ok. Hai ragazzo il cazzo. Io non so dove sto andando. Neanche io so per questo. Che bello. Ho visto una cazzo. Te lo giuro, l'ho vista con la coda dell'occhio. L'ho vista. Hai detto qualcosa? Che cosa? Cazzo, stai dicendo per Diana? Non c'è un cazzo. Uh, è il metto in chain, è una pagnotti, cazzo. Cibono. Sono stanca di tutto questo cazzo. Io avrei proprio voluto una bella tazza di porco. Cosa? Come? Scusa. Qui c'era il... Scusi, lei è il papa, vero? Sì. Cerali della porca. Perché? Orribolo, orribolo, orribolo. AAAAAAA! Ma che cosa? Cane di merda, sei un lupo del cazzo. Io vado a picchiare lui, io vado a picchiare lui. AAAAA! Ricchione di merda! C'ho le scarpette belle, c'ho le scarpette belle di Prada! Aspetta, la scapola qua è vuota. Dove sei? Eeeh, ho inseguito il ricchione con le scarpette di Prada. Ah, ciao, Nolez. Ciao! Eeeh, è sceso di qua. Però ce neanche io ora le scarpette di Prada. Guarda che bello che sono, mamma mia. Dovremmo uccidere così, c'abbiamo le scarpette di Prada tutti quanti. The Prada boots inside my hand. Cosa? Guarda l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto uno. Ma dove cazzo sei andato? Sono sceso, sono sceso, seguimi ferro. Hai proseguito in avanti. Ma c'è una spada incantata a questo pezzo di merda! Ah, salvami! Nolez! Salvami, Troia! Ah, non mi sta seguendo. Nessuno ci sta seguendo. Eh, quello sì, guarda l'ho. Frocio, frocio! Sì, frocio. Dobbiamo picchiare. Andiamo! Ha il cane, ha il cane! È in un buco! Ah! Rekt! Ah, ah! C'è qualcuno in giro. Ho paura. Lascia incantata in efficiency. Ma non serve a un cazzo da ora. Questi enchantments sono... Ah, sì. Comunque, questi enchantments... Ha la spada incantata con... Ha la lascia incantata con efficiency. Lui sa... Adesso perché... Oh, ora c'è uno! Oh, oh, oh! Oh, fecchia rosa! Spacchio voi! Fecchia rosa! Fecchi bolla! Spacchio le gonne! Mamma mia, mamma mia! Spacchio le gonne! Ma... Vecchio, l'abbiamo arato. Spacchio le gonne, fecchi le bolle! Ok, dove stiamo andando? Ho la bussola, ho la bussola, ho la bussola. Buono, buono! Eh, ma dato ci segna noi. Guarda, 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 guarda questo! Guarda cosa tirò, guarda cosa tirò! Te l'ho dato. Dove fai? Cosa mi hai dato? E pattolo! Le braghe! Si chiamano braghe! Le braghe! Ah no, aspetta, prendi anche qua! Si chiamano... Perché io sono Veneto Veo. Veo? Veo che si... Ok, no. Sì, però... Tiro un faffo. Ci hai un pezzo di feffo? Oddio! No, ho solo un faffo, se vuoi. Supply drop dovevo andare. Eh, meno 1250, meno 1800. Eh, porca troia, dove sono? 1250, stiamo andando giusti! Andiamo! Eccolo! Che culo di merda! Oh, dobbiamo camperarci da qualche parte, io direi. Perché ci mette un po'... Ah, per Dio! È arrivata... È là sopra, guarda! Che hack up di merda! Eh, lo prendiamo noi su playdrop, sti cazzi. Eh, io ho paura, però io mi nascondo. Io lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. È qua sopra! È qua sopra! Inchia, se scende quanto lo scassiamo tutto! Inchia, gli faccio l'agguato del volo d'angelo di Assassin's Creed. All'altro, sto parlando molto vicino allo schermo, quindi mi si vede tipo tre quarti alla fine. Io parlerò vicino al microfono, che te lo voglio mettere nel c***o. Sì, che bello! Ma, o stanno scendendo? Si è suicidato! No, è morto! L'ho ucciso uno! Con la spada di ferro! Cazzo pene! Sta scendendo sul playdrop, dobbiamo prenderlo assolutamente. Aspetta, allora, tu lo prendi? Ok, tu guardi l'altro, lo prendo io. Prendilo tu, io ti guardo le spalle. Ok. Ok, ok, ok. Ma, che palle, le scarpette di ferro! E basta? E' questa. Ok, all'arco, all'arco. Perdi, andiamo a prenderlo! Oh, per Dio, che ve l'ho fatto! Perdi, Ana! Muoio, 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 muoio! Stai seguendo quel ricchione bastardo? Ah! Oh, ma il play è troppo forte! Too strong, madafucka! Comunque, allora, ho la mia accetta. Allora, fermo, fermo, fermo! Allora, andiamo a nasconderci, vieni qua, vieni qua. Ma c'è la spada in ferro qua, tu sei scemo! Usala tu, usala tu! Vieni qua, vieni qua che ho della roba da darti, vieni qua! E ho tre lingotte di ferro anche, sai, dove sei? Dammi uno, dammi uno, dammi uno, dammi uno, dammi uno! Vieni, tieni, 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 tieni. Ah, grazie. Allora, tieni, 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 aspetta, aspetta, fermo! Guarda, guarda, ti do. Oh, bella lì. Via, 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 via. Ho un'altra spada in ferro! Eh, dammela a me, porca trovi. Aspetta, quanto fa di danno, scusa? Ehm, più sei. Ah, anche la mia accetta, fa più figo, la accetta da ti. Sì, va bene. Comunque, allora, devo buttare via questo, 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 questo... Questo, questo, questo... Ho sette bussole, se vuoi. E dammene una, che non c'ho. Ho sette... Come fai a perdere sette? Ti giuro, non so, lo sa che quel tizio era tipo un collezionista. Collezionista di bussole? Mamma mia. Collezionista di cazzi. Ok, possiamo andare. Andiamo, e i pistoni... Siamo rimasti in tre! Sono barriccati i pistoni. Oh, quello è iniziato il deathmatch. Sì, quindi rimarremo... Allora, prima si uccide a quello. Esatto, poi gli aspetti e non fai come la trotta... No, ci aspetta, si fa inchino... Oh, è qua, è qua, è qua! È qua, è qua, è qua, è qua, è qua! Ficchia russa! Ah, get wrecked! Aiaiaiaiaia! Scusa, 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 scusa. Allora, aspettiamo un deathmatch o cosa? Eh, a sto punto, tanto buon inizio. Non ho un arco, tu hai un arco? Sì. Uno solo? Eh, no. Dammi uno! No! Dammi un arco! Vabbè, dai, è corretto che io te lo diga. Bravo! Faccio fair play. Sì, sì. Ma com'è che... Ma scusa, perché... Ma perché segna che c'è ancora uno vivo? Cioè... È vero! Segna Fablase Novels e... Quello lì che abbiamo appena ucciso. Ah, è perché è iniziato il deathmatch, ha fatto partire il conto a rovescio del... De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Ma 60 secondi sono ormai passati, mi pare. No, 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 ma passano. Guarda, guarda. Visto! Visto! Mamma mia. Ah, troppo ti farò un da te stesso. Io non ti vedo più. Sei sparito! Ho sparito al for play. Parca, no. Io sono un ninja. S'ho caduto! S'ho caduto come difficile. Ah! Scappo. Non ti vedo. Non ti vedo, alfa. Ora ti vedo. Mi sta giocando 100 Mamma mia Un cuore ho perso Da quando ho messo la freccia sono morto Siamo bravissimi cazzo Se il video vi piaciuto lasciate mi piace Commento quello che vi pare Iscrivetevi al canale di Alphablet Perché abbiamo vinto ma ho lasciato vincere Sì l'ho lasciato vincere perché di solito è un nabo Sì 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 va bene Mi piace Ho fatto un taglio perché ha bestemmiato Alphablet È una brutta persona E ciao ciao